Sempre più persone si trovano a far fronte al morbo di Alzheimer e ad altre forme di demenza. Avete mai pensato a cosa significa vivere con la demenza? Sapete quali sfide devono affrontare quotidianamente i familiari che assistono a un congiunto affetto da demenza? Ora con il progetto Demenza parliamone. C'è una nuova e bella occasione per ottenere una risposta a queste e ad altre domande, ovvero in una biblioteca in cui è possibile prendere in prestito dei libri viventi. I libri sono dunque persone che sono disposte a raccontare le proprie storie ed esperienze. Ci sono libri viventi specialistici, come ad esempio il personale infermieristico che ha a che fare con la demenza a livello professionale. Ci sono libri viventi con le esperienze delle persone colpite. Questi dialoghi contribuiscono ad abbattere i tanti pregiudizi ancora diffusi sulla demenza e a trattare l'argomento tabù della demenza. Si tratta di uno dei molti passi da compiere per arrivare insieme ad una società solitale con i malati di demenza. Un incontro del genere sarà organizzato in Ticino, nella Svizzera tedesca e nella Svizzera francese. Venite numerosi!